Un altro tassello si aggiunge al completamento della nuova pediatria di Padova che dovrebbe essere pronta per l'estate del 2025. L'azienda ospedaliera ha giudicato l'appalto per la progettazione esecutiva, per i lavori di completamento, per la fornitura di apparecchiature e per l'allestimento delle sei sale operatorie del nuovo polo ospedaliero pediatrico dell'azienda. Ad aggiudicarsi il bando da 7 milioni di euro è stata la ditta Settangenesio e S.P.A. di Oderzo che già sta realizzando l'edificio. Saranno sale chirurgiche, d'avanguardia ed altamente tecnologiche. Sarà inoltre realizzata anche una mini sala ibrida ed è previsto anche un angiografo biplano del valore di 1 milione e 200 mila euro. La nuova pediatria è un edificio da 8 piani, 19 mila metri quadrati con 155 posti letto costerà circa 60 milioni di euro.